Benvenuti yacht e mega yacht a Roma Marina Yachtin del porto di Civitavecchia che può ospitare 14 grandi imbarcazioni di lunghezza superiore ai 100 metri e altre 150 di superlusso. Inaugurato la presenza del ministro dei trasporti Maurizio Lupi, del presidente dell'autorità portuale di Civitavecchia Pasqualino Monti, l'infrastruttura si candida a diventare il più importante e suggestivo scalo del Mediterraneo. L'evento si è svolto in occasione della Due Giorni del Mediterraneo, un appuntamento annuale per il porto laziale al quale ha partecipato anche il presidente della regione Nicola Zingaretti. Abbiamo cominciato a far seguire dei fatti alle chiacchiere che tante volte si sono sentite. La orte Civitavecchia finalmente è partita, abbiamo messo nella programmazione europea nuova questa come un'opera strategica per finanziarla tutta, la nuova cabina di regia delle politiche del mare ovviamente vede in Civitavecchia un protagonismo principale, quindi abbiamo dato un luogo per parlare, abbiamo messo 15 milioni di euro per investimenti sui comuni della costa, insomma in una situazione drammatica, in una regione fallita non abbiamo risolto i problemi ma abbiamo cominciato a risolvere e a risalire la china. Grazie a tutti!